ehi la raga bentornati su emergency 5 dai cosa che manca dovrebbero mancare 20.000 crediti mi pare per la prossima missione allora capo cosa dobbiamo fare oggi dai dai capo siamo qua ss una persona è ammalata e ha bisogno di cure mediche scopri in che stato si trova e medica se necessario trasporta la lontana dalla scena capito mandiamo due ambulanze ragazzi cioè due auto mediche perché come sapete oramai se questo dovesse passare il suo virus maledetto a qualcun altro qua la cosa si fa lunga ha comunque non ci manca molto per la prossima missione auguri a questo qua certo ma ne stanno passando altri tizi pare di no siamo fortunati dai capo dammi qualcos'altro da fare forza vabbè il capo dice che c'è tempo ora capo 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 presto alcuni terroristi hanno fatto detonare una bomba sporca l'esplosione ha provocato enormi danni e alcune persone potrebbero essere state esposte alle radiazioni riporta la situazione sotto controllo e arresta tutti i terroristi e questa sì che ragazzi attenzione i terroristi cercano di scappare arrestateli perché ho che aspetta bomba allora aspetta un attimo dunque finalmente una missione interessante va bene ci sono tre persone che devono essere decontaminate ma io ne vedo due dov'è la terza 12 mannaggia che vado fuoco vado nel desktop ogni tanto dov'è la terza allora medica trasferisci estinguite contamina non capisco la terza do sta vabbè comunque allora adesso facciamo la cosa ragazzi che più mi piace mi serve lui subito poi mi serve quattro autopompe subito veicolo decontaminazione due auto mediche subito polisoccorso ovviamente non si sa mai soprattutto mi farebbe comodo vanno presente ok che cos'è sta cosa c'è una bomba non lo so vabbè ha già chiaramente il drone svuot il drone svuot lo mettiamo pure lui può fuori ci penso io poi facciamo furgone della polizia subito elicottero della polizia considera l'ho fatto e va bene così alla forza allora tu mo spegniamo subito subito un po' di problemi mandiamo un po' di acqua qua che spegniamo subito non poche cose ecco l'aereo anti incendio speriamo che non becco nessuno che passa di lì per caso mandiamo quest'altro qua si signore ok sta per arrivare l'aereo anti incendio ragazzi ci siamo quasi finalmente una missione degna ecco 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 spruzza un po' d'acqua perfetto già meglio di niente gli abbiamo dato una bella sistemata non poi tantissimo ma ci accontentiamo meglio di niente dobbiamo però continuare perché vediamo se arriva qualcosa qui si un operaio edile è stato colpito alla testa dalla benna di un escavatore medica il ferito e portalo all'ospedale in attesa di ordini no problemi si signore ok elicottero capito allora vediamo un po' a pausa perché qua comincia a vedere i a disposizione comincia a vedere che sono arrivati tu si comincia a sfruzzare acqua qua tu si ok ma sfruzza pure qua tu a disposizione spruzza ok veicolo anti decontaminazione si ok uno in attesa di ordine due capito ah già il drone il drone facciamo il drone suot il più in fretta possibile è l'unico modo per individuare i carrizi disposti nell'area della missione eh mo lo sono dimenticato capo in attesa di ordini si ok si allora vediamo un po' la situazione il drone ha riempito i serbatoi ed è di nuovo operativo ok allora si manichetta si manichetta dovete spegnere questo prima che si prima che in giro comincia a fare altro fuoco si certo in attesa di ordini no problem così allora il coso antincendio diceva che era pronto io l'andrei a buttare qua no problem speriamo che non mi investe qualcuno ok c'è il rischio che ci sta qualcuno che sa fa male dove 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 pausa 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 eccolo qua eccolo qua allora l'elicottero della polizia fa a caso nostro si signore perfetto ma mi attura sto tizio dovrebbe arrivare tra poco l'aereo antincendio qui avete fatto in attesa di ordini certo automedica vai arriva l'elicottero l'aereo antincendio sta arrivando attenzione la potenza dell'acqua può ferire le persone vicine al punto di scarico ah comunque tutto apposto ok tutti gli incendi un soccorritore è stato attaccato dove chi quando non gli avevo detto in attesa di ordini ok considerano fatto vai 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 attenzione un soccorritore è stato attaccato manette arrestato a disposizione signore allora dobbiamo mandare di nuovo il drone ok va bene vediamo se il drone ok sta andando a cercare l'altro perfetto ok certo bene questo è quasi fatto si signore cosa c'è si signore ok l'elicottero della polizia sta portando il prigioniero in cella alla base allora togliamo un po' di questa roba qua che non si capisce niente ci penso io in attesa di ordini ci penso io cosa c'è ok dov'è il terzo il terzo mi è sfuggito vabbè si capito consideralo fatto ah eccolo qua si va bene ok mi manca pausa vediamo un po' di leggere tutto quello che c'è da fare decontamina ma dov'è il terzo trasferisci i feriti in medica tutte le vittime ah già mi serve un'ambulanza va bene qua a me mi sfugge qualche cosa dove sta il terzo ferito non lo trovo non ne ho la più pallida idea ragazzi di dove sia il terzo ferito boh vabbè dunque per il momento vai via con questo dov'è il drone l'ho trovato ah già mandiamo un altro elicottero tra poco tra poco tra poco dov'è il drone si va bene l'aereo antincendio ha riempito i serbatoi ed è di nuovo operativo allora mandiamo via sti due si signore mi serve l'ambulanza che dovrebbe arrivare tra poco ma dov'è l'altro ferito non lo trovo rintraccia decontamina trasferisci e medica è l'ultimo non so dov'è consideralo fatto capito SOS una persona è ammalata e ha bisogno di cure mediche no ma che cavolo scopri in che stato si trova e medica la se necessario trasportala lontano dalla scena ma perché l'ho fallita raro non lo capisco cos'ha fallito non lo dice poi ah mamma mia ste missioni però ma cavolo non si capisce non capivo dov'era l'ultimo ma che fregatura però dai in attesa di ordini era bella la missione però non è che sia corretto così così non è corretto non si trovava il terzo poi doveva ancora trovare l'altro lì forse è scappato il criminale aspetta ancora ma segna che c'è da qualche parte qualcosa ma non si capisce dove ti pare che lo trovo ma va quel ma dai se mi fa incavola si e questo qua che c'è fa boh c'è sta uno buttato qui che polaccio non sa che non sa che deve fare la vita in attesa di un petonnare alla base ha capito no no ragazzezione un'esplosione di gas ha distrutto un edificio estingui tutti gli incendi e preparati a eventuali complicazioni no che ci vuole no problem avanti voglio vedere se ferisco qualcuno va non passate sta per arrivare sgraziato quello mo' arriva l'aereo antincendio e fanno a strage attenzione la potenza dell'acqua può ferire le persone vicine al punto di scala eh pezzo di buon nodo lì dove deve mettere vero a disposizione ok si signore ma bene ma c'è capì qualcosa va si è verificato un grave problema tecnico con una cassetta di derivazione chiunque le si avvicini rischia di restare folgorato ripara la cassetta di derivazione il prima possibile e occupati degli eventuali feriti a disposizione certo si no problem eh no qua ci vuole molta più roba adesso si signore subito si ci penso io ci avrei voglia però di nuovo eh mo deve ricaricare oh e che vi fermate certo ah mi dice pure certo si ok considera l'ho fatto si bene ok subito ok si bene dai spegniamo qua capito si signore si ok spegniamo tutto ok subito a disposizione capito ci penso io l'incendio ha riempito i serbatoi ed è di nuovo per subito che noia a sto storia ci penso io te aerea ambulanza considera l'ho fatto non passa nessuno di ste due ma no scendi va cosa c'è ci penso io allora allora poi la c'è al solito mi segna che c'è qualcuno che ho fatto ma chi se ne frega subito si capito com'è la situazione qua c'è ancora incendio no ok rientrate no problem si si signore no non devi non deve andare qua si ci penso io in attesa di un signore cosa c'è capito cosa c'è forza tornato tutti alla base a disposizione certo in attesa di ordine certo a disposizione forza 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 basta ok cosa c'è e dove tornare e dovete andare via tutti va bene in attesa di ordine presente cosa c'è no problem ok in attesa di ordine va bene si forza va bene qui fatto si si signore ok mamma mia ce l'abbiamo fatta stavolta almeno qua c'è il solito dizio che non sa che fa a disposizione no problem attenzione si è verificato un tamponamento medica tutti i feriti e occupati dei danni presta attenzione al tuo elenco attività furgone della polizia ok capito rimuovi i veicoli e arresta ok ci penso io mi sa che se ci mando l'altro fogone non me ne penso a disposizione andiamo anche un elisoccorso perché tanto so benissimo che uno si fa male eppure contento evviva hai vinto hai vinto un viaggio in prigione certo no problem cosa c'è si signore considera l'ho fatto ok restiamolo cosa c'è capito si considera l'ho fatto in attesa di ordine ok a disposizione considera l'ho fatto si ok proprio lì ti devo andare a mettere il furgone della polizia sta portando tutti i prigionieri certo si signore curiamo questo no problem ok mi pare che ci siamo raga a disposizione certo si ok perfetto SOS incendio boschivo per cause ignote estingui tutti gli incendi se necessario medica i feriti e rimuovi i veicoli distrutti a disposizione ci penso io ok mandiamo chiaramente anche le autopompe per sicurezza certo ok vediamo un po' la situazione aspettiamo dai 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 che forse riusciamo a spegnerlo oh meromale senza problemi si è verificato un grave problema tecnico con una cassetta di derivazione si signore chiunque le si avvicini rischia di restare polvorato ripara la cassetta di derivazione il prima possibile e occupati degli eventuali feriti ok capo ma dov'è no problem ogni volta sta cassetta non la vedo aspetto facciamo così eccola qua va bene veloce veloce aspetta mi pare che ci siamo già ok già ci siamo pronti per la prossima missione rimane giusto da riparare sta cassetta quindi ragazzi chiaramente noi concludiamo qui ci si becca poi ovviamente nel prossimo gameplay nella prossima sarà la missione il prossimo gameplay l'aereo antincendio ha riempito i serbatoi ed è di nuovo operativo va bene capo quindi ragazzi mi raccomando commentate iscrivetevi lasciate un bel pollicione sul sul ci becchiamo presto nel prossimo video raga ciao raga ciao raga ciao ciao